Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel. L'ultima volta parlavamo del potere degli influencer sul pubblico, delle strategie per fidelizzare, quindi per vendere, le strategie per avere un alto tasso di conversione, per fare sì che lo zoccolo duro delle persone che ti seguono comprino il prodotto, la versione premium del prodotto, eccetera, eccetera. Quindi, in qualche modo, parlavo del potere dell'influencer content creator, testimonio alla seconda poi di quello che fa, sul suo pubblico. Si parlava, nel caso specifico, della più grande fidelizzatrice dell'epoca contemporanea che è Taylor Swift, qualcuno mi faceva l'obiezione nei commenti, giustissima obiezione, mi diceva, ma guarda, io non ho la sensazione che questa sia questa grande manovratrice, e qui non sono d'accordo, credo che lo sia e come, con una grandissima expertise da parte del suo team, ma mi sembra piuttosto che sia il pubblico molto a comandarla. Ma anche questa cosa è vera, cioè l'obiezione in realtà è giusta, nel senso che c'è sempre una reciprocità in questo senso. Chi comanda? L'influencer che vende o i suoi prodotti o quelli di un'altra azienda, nel caso sia soltanto un testimonial, o sia appunto content creator nel senso di creativo, oppure il pubblico che sì, segue l'influenza cui viene sottoposto, ma il fatto che la segua o meno, quindi a un certo punto la sua decisionalità stabilirà le sorti della transazione economica fra chi vende e chi compra. Se nessuno compra, quello che vende rimane così, no? Questo è certamente vero. Poi c'è anche il discorso parasociale, che era implicito nel rapporto di fidelizzazione. La parasocialità, ricordiamoci sempre, è reciproca. Non è un problema soltanto per il pubblico nei confronti dell'influencer, quella sensazione di conoscere, di avere un rapporto intimo, che ci sia una cura speciale proprio per te, no? Tutte queste deformazioni fra persone che non si conoscono e che pensano di avere una relazione con l'influencer, ma anche fra di loro, all'interno delle cosiddette community, che spesso sono community disconosciuti, reciproci, che però funzionano da surrogato della socialità reale. Anche questa cosa è molto triste, a mio avviso, quindi c'è il rapporto pubblico-influencer, pubblico-pubblico, ma c'è anche il rapporto influencer-pubblico, nel senso dal punto di vista dell'influencer o content creator, sono tutte queste paroline che significano poi fino a un certo punto. Nel senso che anche tu che stai dall'altra parte, sei da solo, mentre magari il pubblico è numeroso, sei comunque vittima della parasocialità, perché anche tu hai una sensazione di rapporto personale con il pubblico. Anche tu sei trascinato a sostituire la socialità reale con quella virtuale o comunque a sopravvalutare, a dare alla socialità virtuale delle connotazioni che non le spettano. Questo è sicuramente vero, ma questo vale per tutti, non è solo il caso di una o di un altro. Il rapporto parasociale frega tutti, da una parte e dall'altra e anche appunto soltanto all'interno delle cerchie dei follower. Tra l'altro in realtà vale anche per le cerchie degli influencer, nel senso che questa parasocialità si crea molto facilmente anche fra influencer, nel senso persone che davvero non si conoscono minimamente, ma conoscono i reciproci numeri, magari fanno parte della stessa nicchia. Quindi entrano tutti, entrano in gioco dei discorsi e degli automatismi che in realtà non sono vera socialità, ma quello è un altro discorso ancora. Quindi comanda l'influencer o comanda il pubblico? Si comandano a vicenda, ma nessuno comanda se stesso, potremmo dire questo. Allora viene fuori la mistificazione, di solito qui si fa il ragionamento, la mistificazione dell'algoritmo. In realtà chi comanda è questa entità imperscrutabile che è l'algoritmo. È vero, ma secondo me fino a un certo punto, nel senso che di solito le piattaforme social per cercare di motivare i creatori di contenuti, per cercare di non farli scoppiare troppo presto, dicono loro non dovete pensare a soddisfare l'algoritmo, come se tu creando contenuti non dovessi fare altro che qual è la thumbnail, qual è il titolo, i colori, cosa deve esserci nei primi 30 secondi, le parole chiave, sai tutti quei ragionamenti per cui in realtà creare contenuti sarebbe soltanto cercare di decrittare un codice. Non devi fare così, perché in realtà l'algoritmo è servo del pubblico e quindi non devi fare altro che intercettare i gusti del pubblico. Questa cosa che dicono le piattaforme, che può sembrare un po' paracula, in realtà è vera. Cioè l'algoritmo ha realmente questa funzione, ma al tempo stesso dicendotelo scoperchiano, diciamo che rendono molto palese quello che è. Cioè devi dare al pubblico quello che il pubblico vuole. Capite che è un conformismo reciproco. Da un lato, quando siamo spesso variabilmente pubblico e influencer, tra virgolette tutti quanti, quando tu sei pubblico, sei instradato dall'algoritmo che non è davvero servo tuo nel senso che rappresenta e riproduce tutte le tue peculiarità, i tuoi gusti. Non potrebbe farlo, altrimenti perché ha bisogno di trovare le nicchie. In realtà nicchia fa pensare a qualche cosa di piccolo, ma non dobbiamo immaginare che nicchia rispetti la complessità dell'individuo. Nicchia è comunque una generalizzazione allucinante e quindi tu sei comunque ridotto a nicchie, le nicchie che ti competono come consumatore, è instradato nelle nicchie di volta in volta, che sono una semplificazione incredibile di quello che tu sei e sono già un conformismo di quello che tu sarai. E quindi in questo senso l'algoritmo è un motore di conformismo perché riduce la irriducibile individualità, non servirebbe a nulla avere una nicchia per ogni testa, capita benissimo, sarebbe incommerciabile qualunque prodotto. Quindi comunque devi fare delle generalizzazioni e quindi il pubblico è vittima di un conformismo che non è il conformismo di devi fare esattamente quello che non desideri. No, nell'alveo di quello che desideri si trovano le cose che possiamo riuscire a venderti eccetera eccetera. Naturalmente non rispetteremo mai davvero la tua complessità, ma in qualche modo ti instradiamo, allo stesso tempo chi crea contenuti è sempre implicitamente una sorta di moral suasion invitato ad accomodarsi in una nicchia. Poi si dice ma l'oceano blu, la nicchia sei tu eccetera eccetera, ma anche quella è una nicchia. In ogni caso devi in qualche modo titillare il pubblico e lo devi soddisfare. Non pensare all'algoritmo che è semplicemente lo strumento per cui il venditore incontra il suo cliente. Non pensare allo strumento, pensa al cliente. Scusate, questa è la massima liberazione che ti possono dare i social. Quindi in questo senso, al di là del fatto che ci possono essere influencer o content creator più o meno succubi, non del pubblico, ma della parasocialità, degli inganni della parasocialità. E questo è certamente vero, per cui dico content creator e ci tengo a dirlo, riguarda il grande cantante, il grande musicista, la grande cantante, la grande musicista, riguarda gli youtuber, riguarda gli opinionisti, riguarda tutti, i registi, tutto. È tutto parificato perché tutto accede grosso modo alle stesse piattaforme e presso gli stessi inserzionisti. Quindi sono tutti content creator. Non è che se sei youtuber fai un lavoro diverso di se sei la cantante che va ai Grammy. Sì, lavori diversi nel senso che magari uno fa musica e l'altro fa, che ne so io, un altro tipo di intrattenimento. Ma sono tutti creatori di contenuti che finiscono computati, potremmo dire, all'interno degli stessi algoritmi. Quindi in questo senso non esiste più un'area della creatività che è al di sopra, che è al di fuori. Per cui ci sono gli youtuber o gli instagrammer che sono la monnezzina e poi ci sono ancora i grandi nobili della grande arte. Assolutamente questa cosa è strafinita, ma finita da un pezzo. Sono tutti a concorrere sulle stesse piattaforme con strumenti molto simili. Detto questo, quindi ci sono certamente content creator, quindi come in generalissimo intendo il termine, ci sono sicuramente content creator che subiscono molto la parasocialità. Ovvero sia, possono essere più o meno abili nella loro strategia di vendita, ma comunque hanno un rapporto anche a loro svantaggio troppo intimo, dove intimo non può essere, dove non c'è compresenza, non c'è vera privatezza, non c'è vera simmetria nello scambio personale, eccetera, eccetera. Non c'è letteralmente uno scambio personale. E quindi possono essere più o meno vittime, ma in ogni caso non comanda nessuno. Siamo come, immaginatevi, il più grande e nobile ed elevato artista, fino al più basso venditore di pentole. Siamo stati tutti parificati e il più nobile degli artisti, il più grande degli artisti, il venditore di pentole. Allo stesso modo immaginatevi il più raffinato dei consumatori, ma qui la parola non andrebbe bene, dei sommelier dell'arte e il più burino dei collezionisti di puttanate. Tutto questo è stato parificato. C'è il content creator e c'è il follower. Fine. Sono diventate differenze di marketing, differenze di posizionamento, ma non sono più reali. Tutto viene parificato. E non è più una questione di chi comanda, chi è comandato, chi segue e chi invece dirige. Non si tratta di questo. E non c'è nessuna attenzione, anche qui un'altra mistificazione possibile dell'algoritmo, non c'è nessuna entità malvagia che tiene da dietro le redini e ci ha tolto l'anima. Ma no, non c'è niente di tutto questo. Ci sono stati forniti, la tecnologia è stata capace e gli imprenditori che si sono posti al suo servizio, potremmo dire così, sono stati capaci di fornirci degli strumenti tecnologici per fare sì che qualunque tipo di creazione di contenuti fosse volano della vendita e che qualunque tipo di consumo, di assorbimento di contenuti fosse in realtà essere parificata dai clienti. Questo è successo semplicemente perché funziona. Perché funziona e più funziona più il resto non funziona più. A questo punto uno si potrebbe domandare ma cosa succede all'individuo? Qual è il... se anche la più bella e sublime creatività sarà ridotta ed incasellata nella nicchia entro social bla 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 e se anche i gusti più raffinati e selettivi finiranno per essere sottomessi alla partizione in nicchia dell'algoritmo che cosa rimane dell'individuo? Quindi dell'emancipazione individuale attraverso la cultura, che cosa rimane? Ci si potrebbe parallelamente chiedere che cosa rimane della collettività? Perché qui che lo guardi da destra, si fa per dire, individualismo eccetera, che lo guardi da sinistra, collettivismo eccetera, qua nessuno vince. E questo è molto importante da capire, a mio avviso, proprio un motivo per cui la critica non può venire da una parte sola mai, ma in particolare in questo caso. Che cosa succede all'individuo? Il massimo gusto, la massima soddisfazione che viene concessa all'individuo è il suo consumo. Molto banale ma è molto vero, il consumismo. Per cui l'algoritmo ha partizionato in nicchie le mie caratteristiche individuali. Io come consumatore cerco di ricostruire una maggiore sfumatura dei colori, immaginatevi una cosa cromatica che rende l'idea, dei colori della mia personalità attraverso il consumo. Per cui qual è l'immagine finale dell'individualismo, in senso nobile intendo, cioè della massima espressione dell'individuo finisce per essere la collezione degli acquisti. Per cui letteralmente il room tour. Prendi la webcam o la telecamerina e giri la stanza e fai vedere tutto quello che hai acquistato. Per cui io ho l'edizione speciale di quel regista, oppure ho l'edizione viola del manga dove tutti hanno l'edizione rossa. Per cui mi sono realizzato, la mia individualità si è espressa nell'accuratezza con cui ho consumato. Perché da un punto di vista espressivo, nel momento in cui decido di esprimere, sono di nuovo preso e messo dentro. Perché non è rimasto uno spazio economicamente efficiente al di fuori di quel sistema, ma è semplicemente rendersi conto che quelli che noi chiamiamo i nostri strumenti tecnologici non sono i nostri strumenti, siamo noi i loro strumenti. Questa non è l'epoca in cui l'umanità si è emancipata grazie allo smartphone. Questa è l'epoca in cui lo smartphone si è emancipato grazie all'umanità. Questa è una cosa fondamentale da capire. Dopodiché discorso collettivo. Ah, perché tutti insieme... Cos'è diventata la collettività? La collettività è diventata i fandom, questi recinti di fanatici, come definirli? Ci sono già dilungato parecchio. Che si corroborano a vicenda in qualche forma di idolatria, in qualche forma di dogmatismo personalizzato, personalizzato nel senso rivolto di solito a persone o prodotti molto specifici. E poi la litigiosità, per cui si può litigare fra fazioni. Per cui sei sempre all'interno, comunque sia, che sia un fandom, che sia una fazione politica, eccetera, eccetera. Sei sempre, ti senti collettivo, per così dire, nel momento in cui fai parte di un gruppo litigioso. Un gruppo litigioso, in quanto sempre più radicalizzato nelle sue posizioni. Ma anche radicalizzato fa pensare ad un terrorista, ma può essere radicalizzato anche nel giudicare i film. Per cui vai a vedere un film, sono stato da poco a vedere un film, non vi dico quale, sono stato da poco a vedere un film, la mia sensazione è stata, ok, ma nessuno me ne aveva mai parlato come, ok, perché o fa schifo è bellissimo. Anche quella è radicalizzazione, ok? E quindi alla fine sei, c'è sempre, no? Tutto per cui la rivoluzione è diventata avere ragione su internet. La rivoluzione, anche qui non immaginatevi necessariamente i forconi, ma anche semplicemente il cambiamento dovuto a un qualche tipo di sommovimento di qualche gruppo sociale, che ne so io, insomma, immaginatevelo a più livelli. E quindi change.org, no? E siamo così, perché? Perché abbiamo dato, ma nessuno l'ha fatto, anche questo è un modo di dire sbagliato, stavo per dire, abbiamo dato il via libra a strumenti tecnologici che funzionano talmente bene da avere azzerato le alternative, ma non ce n'è stato nessun malvagio, no? Quando Tim Cook, il successore di Steve Jobs, presso Apple, disse le cose non sono andate come ce le immaginavamo, ma in realtà, secondo me, parere personale, dice la verità, ma nessuno si può dire al massimo, la cosa forse più giusta che si può dire è una grande irresponsabilità, per cui il principio di precauzione è altro che in medicina, andrebbe usato in tecnologia, ma questo, visto io non l'ho ancora visto, ma Openheimer, il principio di precauzione adeguato, potremmo dire, alla tecnologia, non è una questione soltanto di tecnologie digitali, però non potevamo immaginare chi se l'avrebbe mai detto, e le cose sono andate in questo senso. Quindi chi comanda? Comanda, si potrebbe dire, una grande infelicità, ci sono tanti dati in questo periodo che escono sulla depressione, sempre crescente dei giovani americani, più o meno dal 2012, l'infelicità percepita, più o meno dal 2012, sempre crescente, eccetera, eccetera, correlazione non è causazione, la sensazione è che l'epoca smartphone social abbia ovviamente un impatto in questo senso. Sì, il risultato è una infelicità, per cui sia che sei la Taylor Swift, cioè il content creator di successo divino, eccetera, o che sei uno spettatore, magari dai gusti più raffinati, hai comunque la sensazione che non... Come ti posso dire? È come quando ti mangi una galletta di riso. È l'epoca della galletta di riso. Ti mangi la galletta di riso, sì, sarà arrivata qualche calorie, però... Come mangiare il cartone. Questa è l'epoca in cui molto spesso ho la sensazione di mangiare il cartone, perché la quantificazione delle relazioni interpersonali, che è poi quello che dicevo due video fa, la quantificazione delle relazioni interpersonali ci ha... E la quantificazione delle relazioni interpersonali che le ha tutte trasformate in un qualche simulacro di vendita, se non è direttamente una vendita, ci ha un po'... Ci ha tolto qualcuno con un po' di enfasi potrebbe dire che ci ha tolto la poesia, qualcun altro potrebbe dire che ci ha tolto la fuffa e potrei addirittura dirvi che sia la stessa cosa. Ma una cosa interessante, secondo me, da trarre da queste considerazioni è che, chiamiamola nel modo peggiore, la fuffa non è sempre sbagliata. E lo dico da persona non credente, pragmatica e... Io la fuffa cerco di schivarla, di solito. Però questo non significa che tutto... Ma questo è il senno di poi, che siamo bravi tutti. Questo non significa che tutto andasse quantificato. Siccome non tutto è scienza, la nostra... la nostra testardaggine nell'utilizzare strumenti, alcuni degli strumenti della scienza, perché la quantificazione è soltanto uno degli strumenti a disposizione della scienza, al di fuori dell'ambito anche soltanto empirico, ci ha un po' lasciati così. L'estrema... Come posso dire? Quanto sono meglio di noi i computer a fare tutta una serie di cose, ok? Quindi l'estrema inadeguatezza della forma di vita che siamo rispetto ad alcuni compiti ci rende estremamente alienati di fronte al fatto che siamo oramai soltanto dotati di strumentazioni per eseguire proprio quei compiti che ci risultano un pochino alieni. Siamo bestie che non erano proprio fatte per essere dei quantificatori con le stampelle. Le stampelle della quantificazione perché non è il nostro mestiere. Ci siamo un pochino fregati da soli. E' per questo che al netto della luminosità, dell'importanza, della bellezza, dell'impresa scientifica, non abbiamo avuto come specie la consapevolezza, la coscienza di ciò che siamo davvero per fare la giusta attenzione, i principi di precauzione rispetto a quelli che erano gli strumenti di cui ci circondavamo. E quindi, è ovviamente solo metafora, è un modo di dire, non è proprio così alla lettera. E quindi siamo diventati noi gli strumenti dei nostri strumenti. Quando dicevo, in live qualche tempo fa, dicevo l'età del bronzo non è l'età dell'uomo, l'essere umano, che si emancipa grazie al bronzo. È il bronzo che si emancipa grazie all'essere umano. Alla fine è diventato così, ma ovviamente è un modo di dire. È diventato così. A tal punto ci siamo fatti prendere la mano dall'idea che la quantificazione in quanto funzionale fosse la cosa migliore in ogni ambito e lo è in tantissime, sia ben chiaro. Non vorrei che questa cosa fosse poi interpretata come l'elogio della fuffa. Però dovevamo tenerci un cuscinetto di fuffa per ciò che non era necessario affrontare scientificamente. E questa cosa non l'abbiamo fatta, comprensibilmente. Non voglio un determinismo tecnologico della serie. Era inevitabile che le cose andassero esattamente come sono andate. Però in qualche modo c'erano delle forze che ci hanno portato in questa direzione abbastanza potenti. Sarebbe stata necessaria una coscienza collettiva impensabile. E quindi in una forte sensazione di alienazione, di mancanza di sapore, eccetera, eccetera, e sempre più persone si dicono depresso. Ovviamente questo ha anche a che vedere con la maggiore consapevolezza dell'esistenza di alcune patologie simili. Quindi tutto da prendere con le pinze. Però in ogni caso è evidente che guardate anche soltanto come la mia generazione guardava al progresso tecnologico. Quindi diciamo anche soltanto come si guardava al progresso tecnologico. Facciamo finta a metà degli anni 90 e come si guarda oggi al progresso tecnologico. Guardiamo Apple Vision Pro e è un mix di non me ne frega niente. Una cosa può essere carino ma con un sottofondo quasi di oddio. Cioè non sai anche il più fanatico di tecnologia non sa se augurarsi che questa cosa funzioni indipendentemente dal giudizio che si può avere sullo strumento. Ma proprio dici è un po' finita quell'epoca che ogni nuova cosa che la tecnologia ci metteva in mano era figata cosmica voleremo del cielo con il nostro pensiero. Ora iniziamo a pensare boh no? Alla fine scopriremo abbiamo già scoperto volendo scopriremo che avevano ragione i luddisti. Ovviamente i luddisti dipendono dall'epoca in cui li piazzi e il luddismo in sé è sempre stata la corrente più sfigata un movimento quasi da meme prima dei meme. Però in un certo senso avevano ragioni i luddisti e probabilmente un nuovo luddismo mi fermo perché non è vero perché non può perché non c'è la nicchia perché non nel momento in cui un nuovo luddismo generasse una emancipazione dalla tecnologia questo gruppo emancipato diventerebbe muto invisibile sparirebbe quindi non c'è assolutamente più nessun a mio avviso molto soggettivo non c'è nessun ritorno in questo senso possiamo solo constatare che la socialità non parasociale la socialità vera la socialità calda la socialità delle relazioni interpersonali in presenza eccetera eccetera quindi anche la socialità molto più un po' spannometrica e non quantitativamente esatta è certamente sempre possibile è certamente ancora esistente ci mancherebbe altro non siamo ancora in distopia pura ma diventerà diventerà forse già un non voglio dire un fetish ma un di più un vezzo ecco quello che una volta era il mondo oggi è soltanto un vezzo di chi può permettercelo di chiuderebbe